E non è molto... E lo guenta Ma tu sei troppo god, Wasteland E' l'unico che avevo Eeeh... Pollazzo Pollazzo, 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 Pollazzo Chi era il killer? Bayer Monaca Si si, sempre Bayer Monaca E io sono a fare un gen con i kichi qua Mi vado al mio solito gen nel bagno Mi ha perso Si, mi ha perso, confermo Si allontana, va verso l'altra uscita, ragazzi No, viene al gen, qualcuno ha sbagliato un gen Oddio No Non viene più? Io non ho scappato, eh Avete notizia? No Eh, credo sia la baita E' ha preso me Non mi vede? Mi vedo, sapete? Non vedo le vostre auree Ah no, è vero, le vedo, le vedo Questo mi prende un po' di tempo per il gen e vengo Vai, vai Ma sta venendo un salsicciotto a salvarmi, sarà i kichi? Il cazzo è qua Spalle Spalle Usa un gen Spalle Spalle Sì 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 sono tornato al genna ragazzi per noi perché il cacchio ma come fa ma come ha fatto io non è uno che aumentiamo il tempo noi chi ci che cazzo la chiuso ma come chi mi ci fa un bel peto dobbiamo aumentare il tempo ragazzi faccio che del zoogen me la rischio che è salvare valio anche perché io vedo scappare qualcuno e quindi sarà i kishi forse cado io vai l'ho stunnata pure che cazzo vieni wasteland vai sei salvo amico c'è gente nella baita tornerà qua eh per ora solo scuola bus mi salvano tutti eccola mi sono squaiato eh mi sono rimasto al genna stai ancora fatto il genna? si si arrivo e che se vede me sono fuked guarda ah cazzo mamma mia che stun non venti sta è la baita centrale è la baita centrale va verso chi ha sbagliato il genna wasteland no io no no è stata wasteland ahhh inserito di vederci è finita per me ok ora penserà che qui non ci sia più nessuno giusto? c'è i kishi già molto male che ora è inseguito è da me eh è diventato invisibile i kishi si rompe il mio gen e se ne va va al centro torna nella baita ok lo ha rimaledetto? che palle no è finita la maledizione no non è vero tutti su un gen bravi bravi siete più o meno tutti alla stesso livello potete finirvi insieme praticamente se i kishi non sbaglia non scappare i kishi che i kishi è subito dietro di voi grande stop vanna si schiccia che i kishi pure lo chiude eh vuole i kishi ok mi prendo qualcosa da una cassa un altro libro perfetto questo è chiuso vado a salvare i kishi vado io il ragazzo è caduto ok che cavolo è i kishi? i kishi sta al allo scuola bus ah ok più vicino a gaver ma ti sta buggando e se ne sta scappando perfetto madonna wow i kishi is running questo qua i bagni è fatto? questo potrebbe essere il momento decisivo signore allora scuola bus arrivo l'asseminata ok ok io c'ho due libri il libro ti rende invisibile? si si trizio arriva forse occhio qua c'entra no i kishi si muove il circospetto mi sta raggiungendo apre una cassa non so cosa ha preso arriva non fa mok i kishi prova a stunnarla eroicamente ma fallisce e si ritira torno al gen vai 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 io sto facendo quello di fronte nella baita di legno così ne facciamo due occhio allo scuola bus mamma santa ti segue ti segue ti segue non è vero no sempre allo scuola bus ok vabbè se sarà fissata con quel gen i kishi i kishi sta proprio lì sta allo scuola bus va al teatrino vado allo scuola bus allora vai 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 te la controllo lì i kishi sta facendo il gen allo scuola bus forse torna non la vedo più torna 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 chi sta tornando è allo scuola bus vado al cambio i kishi i kishi le ha schiattato una merda in faccia vado al teatrino è diventato una pagoda e adesso vola via la maledetta ragazzo vai prizzo nel frattempo tu faccio il teatrino mi metto se il gen della scuola bus si si ok lo scuola bus finirà per inizio se stonata perfetto vai tienitela un po' perché c'è qualche porta mi ha lasciato vado ad aprire una cassa così vi ho un potere qualcosa ok è finito lo scuola bus fotocamera no lo scuola bus è al 99% signori wow ok vado io vado io sono invisibile mi ha visto sta allo scuola bus ragazzo mi ha perso va alla baita vado io allo scuola bus torna torna vado al teatrino vado al teatrino se ne va 60% al teatrino vieni al teatrino vieni al teatrino ti dovresti mettere su tre gen diversi sapete no ma questo lo scuola bus è tornato indietro ragazzi sta a metà eh più o meno siamo tutti in là scuola bus baita il livello è quello se ricalcia continuamente e poi i kichi sbaglia pure ma lei non insegue più di tanto perchè ha paura torna 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 stiamo facendo il giochino di gen se fai glielo fa viene e va capito oh ciao a me stavolta se mi prende sul cazzo eh stiamo insistendo sul teatrino troppo il tempo passa sta tornando eh si eh mi ha sgamato che palle ragazzi non mi liberate che c'è il grimaldello ok vai 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 mi sta facendo sedere madonna i kichi che sbagli ai skill check no non mi liberate non mi liberate ok no 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 faccio il geno faccio il geno no pensavo fosse i kichi che palle questa maledizione di merda ho sprecato tutto che cazzo è? bug l'ho fatto pure a me prima non capisco ma non c'è un terzo gen no per amore del cielo vuoi finchè li puoi maledire all'infinito io non capisco e poi il timer passa capito? no scuola bus finita la maledizione e lei rimaledisce palle vabbè ma sono rimasti solo quei gen là questo lo appenderei non c'è un terzo se no ci si concentra tutti su uno brutalmente teatrino baita e scuola bus che palle ho la baita io butterei tutto sul teatrino e e si fanno un po' di inseguimento la si viene un po' impegnata questa sembra la no lo rimaledisce che palle ora torna al teatrino io sto la non viene non viene vai ragazzi vai ora sta scuola bus scuola bus non c'hai una porta da giocarti ancora baita di legno scuola bus ancora ancora scuola bus ancora scuola bus ok scuola bus sta venendo attira attira perizio ditemi quando torna da me torna io solo abbaido cazzo al tetrino bada brada vai siamo in due attrino chiudi chiudi va bene va bene va bene va bene chiudi chiudetelo vai ragazzi vai ragazzi alla grande vai brizio madonna gay part mamma mia madonna il gay pardo lo dico io questa volta il gay pardo Non sto messaggiando, mi ha avventato a dormire Allora Vado ad aprire Suale apri Quella là dove si parte, dove si spawna Ok Aggiornaci su Ikichi, wasteland Ikichi è inseguito Vai Geepard Vai Geepard Vai Geepard Vai Geepard Ikichi forse riesce a fumarsela Che demente ok chi ci ha fatto tutto quello che poteva occhio al timer 54, 53 che la potreste fare eh campera pure questa non ci avete una macchina fotografica 30 secondi 30 secondi non ce la facciamo vai 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 è sbattuta nel muro grande grande grazie good game very good game indeed nice killer l'avevo pensato ho detto non lo dico perché altrimenti in emozione non lo faccio bella bella che super technic 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 Grazie a tutti